Un dirigibile è caduto sulla mappa di Fortnite, l'ordine immaginario è stato ufficialmente sconfitto dai 7 e è comparsa una bandiera di Mida. Potrebbe essere stato lui ad aver distrutto il dirigibile, questo lo andremo a scoprire nel video di oggi dove andremo ad esplorare questa nuova zona, mi raccomando. Lascia un mi piace adesso ma soprattutto ricordate di inserire il miglior codice nello shop di Fortnite. Ma come stiamo vedendo sulla mappa di Fortnite in questo esatto momento signori, guardate qua, il dirigibile sembra essere precipitato in acqua, c'è stato una sorta di aggiornamento segreto in cui questo nuovo dirigibile, questo dirigibile esploso, sembra essere atterrato in acqua. Ma prima atterriamo al Daily Bugle perché ragazzi è arrivato Mida. Non sto scherzando, finalmente Mida e la sua organizzazione degli spettri è tornata su Fortnite adesso, non mi ricordo con precisione chi apparteneva agli spettri ma sono sicuro che Mida era uno di questi. Eccoci qua ragazzi, che cosa vi ricorda quel logo? Non vi ricorda per caso il periodo di Mida? Beh a me sì, mi ricorda esattamente quel periodo e stiamo parlando della squadra degli spettri signori. Squadra degli spettri che adesso non mi ricordo né da chi era formata né per che cosa, per quale motivo, però sono sicuro al 100% che è un riferimento alla stagione 2, capitolo 2, season appunto del boss Mida. Che a questo punto, dato questa bandiera, potrebbe essere tornato ufficialmente in questo capitolo 3 per riconquistare la mappa e riavere il potere. Non sappiamo se è alleato con i 7, ma probabilmente sì, dato che li ha aiutati a quanto pare a riconquistare il Daily Bugle. E da come possiamo vedere signori, la sua bandiera svetta incredibilmente in questo luogo. Questo vuol dire soltanto una cosa signori, Mida è tornato ed è tornato con la più grande delle sue intenzioni, riconquistare la mappa di Fortnite e riappropagliarsi del punto 0 per fare tutti i suoi esperimenti. Ma adesso non perdiamo altro tempo su Mida, so che ne volete parlare e... è giusto così, ok? Ne vorrei parlare tantissimo anch'io, però non ne abbiamo tempo perché dobbiamo andare a vedere il dirigibile, signori. Non solo il dirigibile esploso, ma anche una nuova zona che sta entrando in una fase di combattimento. Da come potete vedere, Canyon Condominiale è entrato sotto attacco da parte dei 7. Ma non perdiamo tempo, regà, andiamo a scoprire cosa c'è dentro questo dirigibile esploso. Detto molto sinceramente, fra di noi, regà, non ditelo a nessuno, ho molta paura di andare su questo dirigibile e non so che cosa aspettarmi. È la prima volta che ci atterro e potrebbe esserci di tutto, potrebbero esserci delle guardie rimaste lì e sopravvissute, potrebbe esserci davvero di tutto, regà. Comunque è davvero molto particolare il fatto che la bandiera degli spettri, ossia di Mida e della sua agenzia, sia comparsa esattamente vicino al suo ristorante, che è proprio questo qui, e vicino a un dirigibile completamente esploso dell'ordine immaginario. È tutto molto, ma molto strano, ragazzi. Ho molta paura di scoprire che cosa succederà, ma voglio andare assolutamente a visitare questo dirigibile esploso. Prendiamo un po' di loot, regà, e andiamo all'avventura. Comunque sono sicuro che al 90%, dietro alla riconquista e all'esplosione di questo dirigibile, ci sia lo zampino di Mida. In qualche modo, regà, sfidatevi di me, Mida sta aiutando i sette per riconquistare l'isola e poi, una volta che l'avrà fatto, si prenderà tutto. Questa è una mia teoria, regà, vedremo se sarà vera oppure no. Comunque eccoci qua, rovine bugle si chiama, regà, rovine bugle. Ok, interessante come punto di interesse, andiamo a vedere cosa si nasconde in questo dirigibile. Si sentono, tra l'altro, dei rumori molto, molto strani provenire da qua dentro, quindi un po' di paura in realtà ce l'ho e come. Ok, sto cercando di arrampicarmi in qualche modo, ma non sembra essere la cosa più fattibile della storia, quindi proviamo a fare il giro ed entrare da davanti, non lo so. Come è giusto che sia, ovviamente, le ventole non funzionano più, quindi una volta che ci passiamo sopra non ci lanceranno via. Non ci sono più i cannoni che sembrano essere stati distrutti, lì davanti potrebbero esserci ancora delle cose. E secondo voi, il boss Miao, che era qui dentro, si è salvato oppure è morto nell'esplosione e Mida lo ha ucciso? Lo scopriremo presto. Vediamo, tra l'altro, se la porta di questo dirigibile si apre. Non si apre, ragazzi! Non si apre, è completamente chiusa la porta, ma non ci credo. Ok, facciamo il giro di qua, regà, andiamo a vedere di qua che cosa c'è. Non mi dite che non si può entrare, eh, regà, non ci voglio credere che non si può entrare da qualche parte. No, vabbè, regà, ma hanno fatto una roba incredibile qui, eh. Hanno fatto una distruzione totale, regà, non c'è un punto di accesso se non questa porta qui sopra, forse, attenzione. Eh sì, regà, eh sì, no, qui si muore! Qui si muore addirittura, ma che cosa sto vedendo, regà? Fermi tutti, che cosa c'è scritto lì? Eh, non mi fa entrare, vedete, regà? Non mi fa entrare in nessun modo in questa zona, regà, però sta prendendo tutto fuoco e io voglio entrarci in qualche modo. Quindi penso proprio che ci entreremo con la modalità replay. Proviamo a far saltare in aria con le C4 la porta, magari ci fa passare, vediamo, non lo so, eh, regà. Proviamole tutte a questo punto. 3, 2, 1... Grande esplosione, ma... Purtroppo la porta non si è aperta, è rimasta completamente chiusa, ragazzi. Quello che c'è disponibile, però, è una bella cassa dell'ordine immaginario. Se atterrate qua, regà, ci sarà solamente una cassa, niente di più. A quanto pare, quindi, questo dirigibile che è crollato nasconde ormai nulla di che, ragazzi, da come possiamo vedere. Non ha praticamente nessun segreto se non... Se non ne scopriamo alcuno dopo, eh, perché vi ricordo che tra pochissimo andiamo nella modalità replay e controlleremo cosa c'è al suo interno. Adesso, però, voglio andare in questa parte qui davanti, regà, perché, a parte che c'è un'altra cassa... Fermi tutti, si può aprire questa cassa? Si può aprire, ok, quindi ci sono due casse, ok, e già inizia ad essere un po' più decente. In questa zona, invece, riusciamo a trovare un cannone dell'ordine immaginario molto, ma molto interessante. Vorrei vedere se posso andare qui sotto, tipo, ad incastrarmi, regà, ma vi immaginate, posso? No, vabbè, si può, regà, sono completamente nascosto dai nemici, ho la testa anche fuori dall'acqua. Questo vuol dire che non morirò da soffocamento, mi sa, ma non ci credo, ho trovato il miglior nascondio per arena, regà, se non fosse che è fuori safe, però va bene così. La carcassa del dirigibile è completamente sommersa d'acqua, andrei nella modalità replay a controllare, a dare una controllatina in giro, ragazzi, ci vediamo lì. Ragazzuoli, eccoci qua nella modalità replay, pronti ad andare a scoprire tutti i segreti del dirigibile. Inizierei dalla parte più distrutta, quindi quella davanti, per scoprire che cosa è rimasto di questo dirigibile, che cosa c'è sotto l'acqua, regà, andiamolo a scoprire assolutamente adesso. Ci sono ovviamente tutti i rottami di ferro e tutta la struttura del dirigibile, come è giusto che sia. Vorrei vedere se c'è qualche easter egg di mida, qualche cosa di particolare, regà, però per adesso sembra essere tutto estremamente normale, come è giusto che sia. Sono principalmente parti metalliche, parti del dirigibile, non mi sembra di vedere strutture strane, quindi, regà, per adesso ci sta. Sono curioso però adesso di andare all'interno del dirigibile, la parte ancora intera, per vedere se qualcosa effettivamente è rimasto. Da dove potremmo passare? Proprio da qui sotto, regà, guardate, si passa, si passa e attenzione, c'è qualcosa, c'è qualcosa, ragazzi, ci siamo. Ah, ma quanto sono pollo, regà, ma quanto sono pollo, ma non ci credo, ma c'è un'apertura qui, mi sa. Ah, no, ok, ok, non c'è nessuna apertura, sono semplicemente riuscito ad entrare all'interno, quindi, ok, ci può stare. Praticamente questa parte è rimasta come era prima, poi se andiamo nell'altra parte è invisibile, è tutto completamente invisibile. Io sono lì su ed è tutto invisibile, quindi, ragazzi, non è proprio un posto tanto strano. Alla fine non c'è quasi nulla se non fosse che potrebbe essere stato abbattuto da Mida, questa potrebbe essere la cosa più particolare. Infatti, da come vedete, non c'è nulla di troppo misterioso, se non il fatto che è un po' invisibile, un po' strano, un po' strano come posto, regà, non pensate? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa scelta e andiamo al prossimo luogo da esplorare quest'oggi. Dopo aver visto la modalità replay per trovare tutti i segreti del dirigibile sommerso, adesso è il turno di conquistare Canyon Condominiale. Infatti, da come potete vedere, ragazzi, è sotto attacco da parte dei set e noi li aiuteremo a compiere le loro missioni. Tra l'altro è arrivato anche il nuovo jetpack, signori, quindi è disponibile ufficialmente per tutti quanti. Lo voglio cercare perché, ragazzi, sono molto curioso di vedere se è come quello che c'è sempre stato e sono anche curioso di scoprire... Eccolo il jetpack, regà, l'ho preso, l'ho preso. Sono curioso anche di scoprire se il boss Miao si trova in questa zona perché l'ultima volta si era spostato. Vediamo se anche questa volta si è spostato, regà. Allora, sentite uno sparo, non so se era una guardia o il boss, regà, ma inizio ad avere molta paura ormai di Miao. No, c'è il boss, regà. Ma che palle. Ma sparategli. Ma non ci credo, regà. Veramente, veramente, guardatelo, guardatelo, guardatelo che rottura di palle che è questo boss. Il boss più, più odioso della storia di Fortnite fuori. Ok, lo stiamo facendo fuori in realtà molto facilmente questa volta. Non so neanche io come stiamo facendo, regà. Devo dire la verità, ecco che mi uccide, ecco che mi uccide, regà, ecco che mi uccide, guardate. E invece no, lo abbiamo fatto fuori noi, attenzione, per una volta. Comunque sì, bello, bello, bello il fatto che stiano spostando questo boss che segua ogni attacco, mi piace. Ma soprattutto mi piace di più il fatto che stiano combattendo per riconquistare più territori possibili. E soprattutto il fatto che Mida si sia intrufolato così a caso rende tutto ancora più speciale. E poi il fatto che abbiano riaggiunto i jetpack, regà, e che si può sparare in volo è fighissimo. Ma poi si può sparare in prima persona, regà. Ok, questo potrebbe essere veramente, veramente figo. E che dirvi ragazzi, io con questa lotta qui vi lascio. Ci vediamo domani con una nuovissima challenge, un nuovissimo video, ragazzi. E chi più ne ha più ne metta. Ci vediamo domani, ciao ciao ragazzi. Ciao ciao.